Alcune starpaglie si sono incendiate oggi, venerdì 31 marzo, intorno alle ore 16 all'interno di un terreno privato, quasi al confine con Favre vicino a una serra. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ivrea, di Castellamonte e i carabinieri. I pompieri hanno spento le fiamme prima che potessero propagarsi creando un danno, accertamente in corso sulle cause. Grazie a tutti, grazie a tutti.